Passo decisivo quello compiuto da Papa Francesco che ha riconosciuto il martirio di Suor Maria Laura, l'arciprete di Chiavenna ha donato la sua vita per il bene delle persone più indifese. Campana Festa Chiavenna in tutta la diocesi di Como per rendere omaggio a Suor Mainetti, martire e futura beata, il sindaco, un esempio per tutti noi, era sempre a fianco di chi aveva bisogno. L'emergenza coronavirus è stata una grande prova per il mondo del volontariato, un'esperienza che ha rafforzato il valore dell'operare in rete tra associazioni, prezioso il ruolo svolto dal centro servizi. Sarà un'estate con gusto alle cascate all'acquafraggia di Piuro, da oggi fino al 30 agosto a tutti i weekend i prodotti tipici a chilometro zero si possono assaporare in uno scenario naturale da favola. Buonasera, buonasera a tutti, passo decisivo, quello compiuto da Papa Francesco nel percorso di beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti. Riconosciuto il martirio della religiosa uccisa il 6 giugno 2000 da tre ragazze all'epoca minorenni. Servizio. A mezzogiorno il suono delle campane si è diffuso nell'aria. A Chiavenna, quelle che ascoltiamo sono dalla collegiate di San Lorenzo, così come in tutta la diocesi di Como, hanno suonato a festa per lo storico annuncio giunto da Roma, pubblicato venerdì sera sul bollettino della Santa Sede. Papa Francesco, dopo aver ricevuto in udienza il cardinale Angelo Beciu, prefetto della congregazione e le cause dei Santi, ha firmato l'autorizzazione alla promulgazione del martirio di Suor Maria Laura Mainetti. Campane a festa nelle comunità di Villatico e di Colico, dove Suor Maria Laura, al secolo Teresina Mainetti, è nata il 20 agosto del 39 e a Chiavenna, luogo del suo martirio, avvenuto la sera del 6 giugno 2000, al termine di un rituale satanico, ricorda la nota diffusa dalla diocesi di Como, che ha accolto con gioia la notizia di questo importante riconoscimento da parte della Chiesa universale. Una vita dedicata agli altri, quella di Teresina. A 18 anni entrò nella congregazione francese delle figlie della croce, dedicò la sua vita alla missione tra i bambini, i giovani e le famiglie, prima a Vasto, poi a Roma, a Parma, per giungere a Chiavenna nell'84, dove tre anni dopo divenne anche superiore della comunità, fino al 6 giugno 2000, giorno del suo martirio. Dalla collegiate di San Lorenzo, dove dal marzo 2019 riposa su Ormela Laura, ci giunge il messaggio di Monsignor Andrea Caeli, arciprete di Chiavenna. Per la comunità di Chiavenna e anche per l'intera diocesi è un momento di festa oggi. Abbiamo ricevuto ieri sera l'accoglienza del decreto di martirio e la promulgazione di questo decreto da parte del Santo Padre, il Papa. E ora abbiamo qui tra noi una donna che è martire. Certo, questo ricorda un evento e un fatto tragico, ma soprattutto ricorda a tutti noi, e quindi alla comunità cristiana, che abbiamo un modello, un modello di vita cristiana, che ha saputo donare la vita. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. E lei l'ha donata. L'ha donata non solo in questa occasione, ma l'ha donata quotidianamente, l'ha donata in ogni istante della sua esistenza, l'ha donata soprattutto ai più piccoli, ai più poveri, ai ragazzi, ai giovani. Per questo attendiamo, trepidanti, che la Santa Sede insieme al nostro Vescovo dichiari, beata, Suor Maria Laura. Questo magari anche a breve, nei prossimi mesi. Sarà un momento anche questo, che ci vedrà uniti tutti intorno a questa figura, testimone dell'amore per Cristo e per i fratelli. Oggi Chiavenna ha vissuto una giornata indimenticabile, forti le emozioni che hanno attraversato i fedeli, a riassumere i sentimenti dei suoi concittadini, il sindaco Luca della Bitta. Tantissimi fedeli che in questi vent'anni hanno raggiunto il luogo del martirio. Oggi il sindaco Luca della Bitta, tra i primissimi a diffondere la notizia giunta da Roma, si è recato in via Poiatengo, dove si trova la croce dedicata a Suor Maria Laura. È una notizia straordinaria per la nostra città, che riempie il cuore di emozione, di gioia, di orgoglio. Suor Maria Laura sarà beata e Chiavenna avrà tra i suoi figli una persona che per tutta la Chiesa del mondo è modello, modello di una santità nuova, di una beatitudine espressa nella vita di ogni giorno, a servizio delle persone, dei ragazzi, dei giovani, a servizio di chi ha bisogno, data fino alla fine. È un esempio per tutti noi che Suor Maria Laura ci accompagni nel nostro impegno di ogni giorno, nelle nostre responsabilità, nella vita della nostra comunità. Un grazie a chi ha lavorato in questo percorso, a partire dal Vescovo Monsignor Oscar Cantoni, al Vescovo di allora, Monsignor Alessandro Maggiolini, ai nostri parroci, Don Andrea Caelli oggi, Don Ambrogio Balatti, che fu protagonista di quelle vicende e tanto ha fatto in questi anni. Un abbraccio speciale alle Suore, figlie della Croce, presenza di luce ancora oggi nella nostra comunità. Inizia un nuovo percorso, l'impegno oltre alla gioia di pensare a Chiavenna con Suor Maria Laura Beata deve essere quello di cercare di imitarla ogni giorno nella nostra vita. Ora parliamo di volontariato. L'emergenza coronavirus è stata una grande prova per il mondo del volontariato, il cui impegno a fianco a istituzioni è stato ed è tuttora indispensabile per risolvere i tanti problemi che affliggono i cittadini. Un'esperienza che ha rafforzato il valore dell'operare in rete tra associazioni. Mesi impegnativi per il volontariato, la cui mobilitazione è stata fondamentale a fianco delle istituzioni nell'aiuto alle persone, soprattutto quelle fragili. Il volontariato si è impegnato molto, abbiamo visto delle associazioni in primo piano, delle realtà, penso alla Croce Rossa, penso alla protezione civile, ma penso anche a realtà magari minori che però hanno visto un ottimo coinvolgimento di volontari, di singole persone che si sono date disponibili. Penso alla Mensa che ha provveduto a predisporre dei pasti anche in numeri significativi e lo stesso Emporion, che è un progetto di mercato solidale, che comunque è sempre rimasto aperto ed ha supportato le famiglie nella prima fase, gli over 65 sono dovuti rimanere a casa e chiaramente siamo stati molto ligi, abbiamo supportato le associazioni in questo, ma nello stesso tempo da segnalare che si sono avvicinati tanti giovani, voi perché l'università era chiusa, voi per altri motivi, e anche persone che al momento non erano occupate e quindi avendo le realtà produttive chiuse. Quindi questo è un elemento molto positivo che dovremmo cercare anche di coltivare, tra virgolette, perché veramente c'è stato un entusiasmo, un avvicinamento di tante, tante persone. Prezioso il coordinamento svolto dal Centro di Servizio per il Volontariato, CSV, Monza Lecco Sondrio, che ha affiancato le associazioni nello sviluppo di progetti. E poi un'altra cosa molto interessante che si è riuscita a fare è quella di far pensiero, ragionare, fare proposte, soprattutto nell'ambito del terzo settore, nello specifico con il sistema delle cooperative, quindi con le cooperative sociali, con Solco, con la fondazione comunitaria, si è veramente intrecciato, grazie, è brutto dirlo, a questo momento particolare, proprio una sinergia di azioni, ma anche di pensiero, che speriamo di poter portare avanti nel prossimo futuro. Anche il mondo del volontariato e degli enti non profit vive una condizione economica difficile. Per sostenerne l'attività con contributi a fondo perduto, in corso l'importante bando di Fondazione Cariplo, di imminente uscita, quello di Regione Lombardia. Su questo il Centro Servizi Volontariato chiaramente darà una consulenza, poi sul sito potrete vedere le modalità, perché ovviamente si riceve solo su appuntamento, ma ben contenti di poter supportare tutti su questi aspetti. Premiare con onorificenza al merito della Repubblica Italiana quanti si sono distinti per il loro impegno nel fronteggiare l'emergenza coronavirus. La presenza del Consiglio dei Ministri invita i prefetti a segnalare persone meritevoli di tale riconoscimento. prioritariamente medici, sanitari, volontari, operatori di protezione civile, vigere fuoco, forze dell'ordine, altri soggetti che abbiano operato in forma alla Prefettura di Sondrio con abnegazione e spirito di servizio nell'attività connesse alla gestione dell'emergenza. Un modo tangibile, scrive il prefetto Pasquariello, per esprimere un segno di gratitudine delle istituzioni a quanti si sono adoperati a vario titolo in drammatiche circostanze, spesso sacrificando la vita privata e correndo rischi per la propria salute. Per questo il prefetto chiede a sindaci, dirigenti di enti pubblici, associazioni di imprese e sindacati, organi di informazione, di far pervenire entro il 30 giugno mirate candidature per il conferimento delle onerificenze. Qualora si superi il numero annuo consentito per esaudire tutte le richieste pervenute, non si esclude di scaglionare l'assegnazione in più anni. Nella lettera, l'autorità di governo invita riservare attenzione soprattutto nei confronti di quanti si sono prodigati con disinteressato impegno a favore delle persone in difficoltà. Fotografare gli angoli più suggestivi del proprio territorio, condividerli su una grande bacheca virtuale, farli conoscere a tutti, per incentivare il turismo a portata di mano. È l'obiettivo che si intende raggiungere con l'iniziativa Hashtag Scatta l'Estate. Vediamo. Hashtag Scatta l'Estate, questo è il nome scelto per l'iniziativa lanciata da Acel Energie, Enerxegna e EVV Energie per sostenere la ripresa post-covid nei territori in cui operano le tre società. Si tratta di un concorso fotografico presentato in videoconferenza a istituzioni, associazioni impenditoriali e mass media che intende valorizzare le bellezze che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, luoghi da scoprire o riscoprire nel corso di quest'estate. Coinvolgerà tutti coloro che posteranno sulla propria pagina personale Facebook o Instagram una foto di uno scorcio artistico paesaggistico scattata dalle province di Sondrio, Lecco, Como, Monsebrianza, Varese oppure nella zona di San Donato del Piave. Si spazia dunque dalla montagna al lago, dalla collina al mare. Dal 21 giugno al 20 settembre impaglio nelle tre premiazioni mensili e nella super premiazione finale pacchetti turistici da utilizzare in queste aree, promuovendo così il turismo locale. Attraverso le immagini che verranno postate con l'hashtag Io scatto l'estate con l'indicazione Io partecipo indicando la località e il tag alla pagina di riferimento a scelta fra chiocciola avv energy official chiocciola acenergie e chiocciola segna energia si verrà a formare un social wall, una grande bacheca con tutte le foto visibile all'indirizzo www.scattalestate2020.it Un concorso turistico fatto dagli utenti per gli utenti ricco di spunti e suggerimenti turistici per chi vive in questi territori e per la loro promozione attraverso la rete spiega il responsabile marketing di acel energie Martin Ignacio Isola Bella Il presidente di acel energie Giovanni Priore presentando Scatta l'estate ha ricordato come l'azienda costituisca una realtà di riferimento per i territori provinciali nei quali opera anche grazie a una rete capillare di sportelli e con una politica di attenzione e sostegno attraverso sponsorizzazioni e largizioni liberali alle più importanti e significativi iniziative in ambito sociale culturale e sportivo Noi adesso che l'emergenza sanitaria sembra stia rientrando ha spiegato la DDA c'è l'energie Giovanni Perrone vogliamo contribuire nel nostro piccolo a dare una mano a interrompere la catena del contagio economico puntando sulla valorizzazione dei territori con la speranza di poter sostenere il turismo Alla videoconferenza hanno preso parte anche il presidente di ACS Agam Paolo Busnelli e i due vicepresidenti Marco Canzi e Marco Rezzonico Quest'anno la Lilt Running è dove vuoi quando vuoi e in ogni dove annullata a causa Covid la tradizionale corsa camminata per sostenere la lotta contro il tumore al seno le volontari della Lilt propongono una nuova formula della manifestazione che trasforma tutti i partecipanti in ambasciatori della prevenzione vediamo Ciao a tutti amici della Lilt Running purtroppo quest'anno la classica corsa della Lilt non si è potuta tenere però vi invito comunque a sostenere i progetti della Lilt acquistando la maglietta che sarebbe dovuta essere della gara e vi invito comunque a fare sport a tenervi in forma seppur a livello individuale sperando di poterci riunire presto tutti insieme quest'anno la Lilt Running la corsa camminata non competitiva organizzata dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori sezione provinciale di Sondrio non si terrà con la formula tradizionale a causa dell'emergenza sanitaria ma il cuore e la fantasia delle volontarie della Lilt sono andati oltre così l'edizione 2020 con l'aiuto delle nuove tecnologie si racchiude nello slogan cognato da chi è in prima linea nella prevenzione del tumore al seno quando vuoi come vuoi tutti i giorni e in ogni dove per partecipare basta indossare la maglietta della Lilt Running durante l'attività sportiva ma anche per una semplice passeggiata scattarsi una foto e poi condividerla sulla pagina Facebook della Lilt di Sondrio l'occasione per essere ambasciatori della prevenzione ma anche per sostenere l'acquisto di apparecchiature in grado con la professionalità dei medici di salvare la vita il coronavirus è stato quello che ha fermato la decima edizione il decennale ma le ragazze che ormai sono il gruppo storico che organizza questa manifestazione hanno inventato visto che siamo nella Repubblica dei social oggi hanno inventato una Lilt Running virtuale ogni donna potrà comprare la maglietta fare il percorso quando e come e meglio crederà e inviare poi le foto la registrazione o quello che vorrà alla sede centrale e verrà inserita sui nostri blog sui nostri social network e sul sito dove sono in distribuzione le magliette? le magliette si possono trovare sia in sede centrale che in alcuni gazebo che verranno istituiti appositamente in quale modo verranno investiti i fondi raccolti dalla vendita delle magliette? sono saltate alcune manifestazioni tra cui dalle tranne che servivano per finanziare sia l'attività di servizio alla persona dello sportello di assistenza psicologica che anche quelli di prevenzione noi avevamo acquistato convinti di avere questa possibilità economica il photofinder quindi l'apparecchiatura per la mappatura dei nei dovremmo cercare di recuperare questi fondi per completare il pagamento di questa apparecchiatura sarà un'estate con gusto alle cascate d'acqua fraggia di Piuro da oggi fino al 30 agosto prodotti tipici e natura andranno a braccetto l'obiettivo è quello di promuovere il cibo buono pulito e giusto impegnati il comune di Piuro e la condotta slow food della Mera assieme al consorzio di promozione turistica della Valchiavenna alle aziende e associazioni del territorio nei weekend saranno presenti nei pressi del parco delle cascate bancarelle delle aziende agricole di Piuro del resto della provincia di Sondrio ed i produttori dei pressi di slow food predisposto un punto vendita di panini dolci e bevande preparati con ingredienti che rispettano lo spirito dell'associazione nata per promuovere uno stile di vita a misura d'uomo un'ottima occasione per rappresentare ai turisti la brisaula e il vino di capra della Valchiavenna pressi di slow food i formaggi della Valbregaglia della Val di Lei lo storico ribelle e il formaggio del fen il miele e le confetture di Piuro i biscottini e la torta Fioretto si potrà apprezzare anche la birra artigianale valteinese l'acqua sarà a chilometro zero grazie a Frisia che proprio nelle scorse settimane ha riattivato la produzione a Piuro nella nuova puntata di Itinerari in onda su Unica Sondrio ai 19.45 proseguiamo il cammino nella splendida Val d'Avero raggiungendo l'alpeggio isolato di Motaseca privo di fonti affacciato sulla Valle Spluga qui abbiamo portato acqua potabile a lino e celina che vi passano l'estate un racconto tutto da seguire vediamo così non potevano entrare le mucche a Grazie a tutti. Salve, buongiorno, buongiorno, benvenuti a Motta Secca, eccoci qua, vedi quale diavolo? Ci portano l'acqua perché qui è Motta Secca e lo dice la parola, zero acqua. E qui siamo arrivati all'Alpe di Motta Secca, salve. Buongiorno, buongiorno a voi, benvenuti. Come altitudine è circa 1670, di modo che è un posto isolato, fuori dal mondo, perché per arrivarci bisogna camminare un'oretta circa da Avero, anche meno. Qui c'è soltanto una baita e una stalla. Sì, in questo posto qui sì. Di un alpeggio piccolino. Venivano dal fondo valle e salivano man mano, arrivavano fino a questa quota, poi si fermavano e accodivano queste mucche, facevano il formaggio, facevano il burro. E poi alla fine dalla stagione scendevano perché c'era il pericolo di non rimanere qua perché altrimenti veniva la neve. Qui adesso vivete solo lei e suo marito. Io e mio marito, poi vengono anche i figli a trovarci e a me piace da morire star qui perché mi sento tranquilla, ho nessun rumore. Sono fuori dal mondo, però è un posto che per me è il regno. Hanno contribuito al bene della comunità nella quale vivono, per questo hanno ricevuto la massima onorificenza rotariana. Quattro i valterinesi premette da Rotary Club Sondrio, cerimonia svolta a Sattresivio, la quale abbiamo dedicato lo speciale in onda stasera alle 20.15 su Unica Lecco, alle 20.20 su Unica Sondrio. Repliche lunedì alle 20.55 e martedì alle 20.20. Era l'ultima notizia, vi ricordo l'appuntamento sul web, il nostro sito, l'indirizzo è teleunica.com, la nostra presenza sui social, su Facebook, su Twitter, su Instagram e su Youtube. A seguire le previsioni meteo, buona serata.